buonasera cari amiche cari amici scusate mi tolgo gli occhiali mi piace guardarvi in faccia buonasera buonasera vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube dai che arriviamo ai 150.000 ad attivare la campanella così potete sentire le notifiche mi raccomando mettete i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 l'applicazione numero 10 calcio in italia in europa e nel mondo allora incominciamo subito a parlare di turchia perché oggi il titolo era incredibile dalla turchia e la notizia è confermata la notizia è confermata il fenerbace sta cercando di portare a in turchia il nostro giocatore rade cronici c'è un piccolo particolare per quello che riguarda i rumors e le voci si parla proprio di un'offerta che sembra addirittura triplicata al giocatore quindi un'offerta importante il giocatore chiaramente ci sta pensando da quello che dicono a sport digitale in turchia queste sono tutte cose che arrivano dalla turchia però ci sono vaghe conferme anche italiane che cronici abbia veramente ricevuto questa offerta c'è un piccolo problema e sono ironico il piccolo problema è che al milan non è arrivata nessuna offerta e un altro problema per quello che riguarda le trattative con le squadre turche qual è è che ai giocatori visto che c'è una tassazione particolare non hanno mai problemi a offrire cifre anche importanti il problema che invece alle squadre alle quali alle quali appartengono i giocatori tanti soldi non ce ne sono mai quindi questa è la situazione delle trattative con la turchia che ha questo modo di condurre le trattative legittimo però poi bisogna trovare i club che accettano magari di sotto vendere i giocatori per rebic pur di risparmiare l'ingaggio il milan ha detto va bene datici poco per quello che riguarda il cartellino quindi la situazione di cronici è una situazione fluente nel senso che è vero sembra proprio vero ho avuto qualche conferma in questo senso che ci sia un'offerta triplicata no un'offerta a cronici ci sono rumors triplicata però bisogna però al milan non è ancora arrivato niente che come si comporterà il milan allora cronici è un altro dei giocatori divisivi non suscita mai nessuna emozione o poche emozioni ai tifosi del milan perché è un giocatore concreto non è un giocatore emozionante però bisogna anche tenere conto delle esigenze dell'allenatore che cosa rappresenta bisogna essere obiettivi poi possiamo essere d'accordo possiamo dire no non è vero però che cosa rappresenta per stefano pioli rappresenta il soldato che conosce bene tutti i meccanismi le grandi manovre quindi perdesse anche cronici dopo aver perso tonali dopo aver perso benasser pioli avrebbe dei problemi lui si da di cronici perché sa che cronici conosce cronici conosce i movimenti della squadra a centro campo quindi non dobbiamo solo fermarci all'emozione no cronici ci piace non ci piace dobbiamo tenere conto delle esigenze di pioli e per cronici e per pioli cronici è un giocatore importante sul piano della nascita della manovra un giocatore che sa stare davanti alla difesa io non sto in questo momento lodando in maniera sviscerata cronici perché anche voi sapete che anch'io a livello di difesa di playmaker piacciono altre tipologie di giocatori ma dobbiamo entrare nella testa di pioli che si fida di cronici e vuole che cronici sia in campo proprio per quello quando poi i muse i reenders i love to cheek entreranno bene nelle diciamo nella testa di pioli quanto a manov quanto a movimenti quanto inserimenti quanto a coperture poi vedremo le scelte di pioli a oggi è così quindi cronici nessuna offerta offerta al giocatore che immagino ci stia pensando e bene anche se ovviamente in questo momento la priorità di milan milan che questa sera con cronici giocherà col barcellona alla sua destra loftus cica la sua sinistra ore alle 5 domani mattina siamo tutti davanti alla tv a sinistra reenders vediamo se si ripeterà come crediamo pulisi cileao giru dietro tomori con ciao a destra il buon florenzi megnano in porta a sinistra tevernandes questa è la formazione contro la juventus ma il titolo è ecco il sostituto di cronici o meglio il milan forse ha già pensato al sostituto di cronici chi potrebbe essere eccolo qua oggi pur colleghi autorevoli hanno scritto hanno ipotizzato un nome che per me mi prendo la responsabilità poi ci siete voi che bacchettate mi mandate mandate i video ma mi sembra e li posso prendermi la responsabilità di dirlo molto poco plausibile non diciamo inventato impossibile sia per rispetto dei colleghi sia perché nel mercato tutto è sempre possibile ma mi sembra molto poco plausibile l'ipotesi copminers perché perché copminers signori l'atalanta lo valuta legittimamente dai 35 ai 50 ha ottenuto una forbice molto ampia molto ampia può darsi magari che sia più 48 che 30 che 36 però molto ampia quindi lo ritiene uno dei giocatori fondamentali e più preziosi della sua rosa ha già venduto oilund separato a casa 70 non ha bisogno di vendere e copminers sul piano economico ha un valore che per il milan non è difficile o complicato non esiste non esiste per il milan non esiste quindi prendiamo copminers e mi prendono l'esperienza di spostarli ecco chi potrebbe essere in giro un giocatore dalle caratteristiche che potrebbe prendere il posto di benasser se pioli vuole un giocatore così altrimenti insegnerebbe a muso rainders potrebbe essere quel dominguez del bologna costo relativo intorno ai 10 milioni che sarebbe ampiamente pagato dalla dalla vendita ipotetica di crunic che ripeto visto quello che offrirà il fenerbace al milan mi sembra molto improbabile vediamo speriamo che il fenerbace tiri fuori delle cifre importanti sembra strano però tutto è possibile è proprio dominguez del bologna dominguez del bologna potrebbe essere il giocatore che possa eventualmente possa prendere il posto o possa diciamo così integrarsi nel centrocampo del milan non ho conferme o voci pesanti ma il milan si era già interessato a dominguez è un giocatore che conosco un giocatore che hanno osservato quindi attenzione perché il sostituto non è certo copminers costo 40 milioni perché non siamo al primo di siamo al primo di agosto ci sembra strano una cosa del genere ma piuttosto dominguez che potrebbe avere come costo e qualità e soprattutto esperienza del campionato italiano potrebbe essere il giocatore forse ideale quindi questa la situazione continuano ad arrivare squadre per decetelare adesso l'ultima in marsiglia che si dice possa essere interessato ma vi ho già detto nel video precedente non mi voglio ripetere che non sembra il luogo più adatto per un giocatore che ha bisogno di ritrovare la carica giusta invece importante l'arrivo e finalmente abbiamo qualche notizia abbastanza ufficiale non dal milan ma da da matteo moretto che è molto vicino al valencia dovrebbero essere ormai chiuse le pratiche burocratiche domani sera dovrebbe essere finalmente mercoledì sera il giorno giusto per musa che dovrebbe arrivare a milano per poi sottoporsi alle visite mediche giovedì giovedì quando poi ritornerà in giornata il milan poi musa probabilmente come ciugueze continuerà la preparazione magari da solo a milanello per poi unirsi al gruppo domenica e dopo incominciamo a divertirci perché ci sono praticamente quasi tutte quasi tutti volevo eventualmente mettere il titolo prima di tutto questo bailam bailam per crunic ma un bailam vero figlio di una notizia vera del collega di sports digitale bene volevo intitolare quasi ma poi ho cambiato idea come vi ho detto colombo la chiave colombo signori per quello che riguarda il centramanti del milan la chiave è colombo quando il milan prenderà una decisione per quello che riguarda colombo cioè è un giocatore che ci serve ci fidiamo è lui la terza punta allora sarà colombo punto stop a rivederci veliz a rivederci bertran anche perché voglio ricordarmi me lo ricordava oggi collega pietro mazzara che anche se il milan non chiude lo slot per l'extracomunitario c'è anche tempo gennaio cioè non è che il milan perda lo slot perde la possibilità di prendere un extra comunitario perdendo lo slot perché non lo prende entro il 31 agosto si può prendere anche gennaio e non cambia nulla tanto è vero che l'anno scorso per non perderlo hanno preso vasquez quindi colombo è la chiave se colombo che in questo momento ha pesante il cagliari insiste ranieri vede lui al posto dell'infortunato per adesso la padula quindi vede proprio colombo c'è l'insistenza del cagliari per colombo resisterà al milan lo vorrà dare solo in prestito con magari diritto di riscatto e contro riscatto e allora deve andare su beltrano su veliz o su un altro giocatore è una scelta direi da effettuare abbastanza rapidamente perché per esempio su veliz è arrivato volando e allora lì sono dei problemi perché quando arrivano dal nord sono sempre problemi le aquile il nottingham forest che sarebbe interessato a veliz poi sapete che le squadre inglesi non è che siano interessate al giocatore lo guardano e lo prendono quindi attenzione al a questa possibilità poi c'è sempre beltran che mi è stato proprio segnalato nell'ambiente vicino al milan vediamo beltran però beltran c'è anche la fiorentina e la roma lì in questo caso il milan potrebbe eventualmente precederle però tutto ripeto la chiave è una il puzzle si incomincia a comporre dopo che si capisce che cosa voglia fare colombo e che cosa voglia fare il milan di colombo un saluto e buona serata e soprattutto iscrivetevi al canale youtube di carlo pellegrati attivate la campanella e e e mettete i vostri like